Come vi dicevamo nella nostra apertura, ora, adesso, tra poco, dopo la prima battuta, verrà riservato un minuto di ricordo, non di silenzio, per il piccolo Stefan Bujevic, sulle note di una canzone che tanto era ascoltata dal piccolo Stefan, musica di Giovanotti che stiamo per ascoltare. E questo è l'applauso del palo evangelistico Goran Bujevic e la sua secondogenita in braccio. Grazie. Poco da aggiungere. Grazie. Grazie.